signor questore lei ha un background professionale di indiscusso spessore il classico poliziotto che si è formato in strada ma soprattutto in contesti duri e particolari del nostro paese l'esperienza acquisita e senza dubbio fondamentale ma quanto influisce poi nelle scelte di un questore? Sicuramente è la parte più importante perché fare esperienza significa poi trovare soluzioni più adatte ai problemi che si presentano basandosi proprio sulla conoscenza pregressa e sugli errori non solo sui successi ovviamente che in passato si è avuti nella gestione dei diversi uffici. Naturalmente ogni realtà ha delle sue caratteristiche, delle sue peculiarità, sicché poi il tutto va sempre adattato a quelle che sono le esigenze del territorio e alle varianti che naturalmente ciascuna realtà, ciascuna collettività presenta. A lei non piacciono i luoghi comuni tant'è che al suo esordio ha subito sdoganato quello dell'Irpinia Isola Felice, appunto non lo è, ma come è messa oggi la nostra terra alle prese con nuovi fenomeni delinquenziali e mutamenti sociali, tra questi l'emigrazione? Io distinguerei tre settori. Il settore della criminalità organizzata che interessa la provincia di Avellino, non tutta fortunatamente, ma alcune zone che risentono inevitabilmente della cosiddetta delinquenza di confine, io la chiamo, con le province di Napoli, di Caserta, ma anche di Benevento, con organizzazioni che in passato e mi risulta anche attualmente hanno delle saldature con clan del Casertano e del Beneventano. L'altro aspetto da tenere presente è, come diceva lei, l'aspetto della immigrazione. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno che abbiamo vissuto come qualcosa di straordinario, però debbo dare atto anche nella mia esperienza crotonese, di questore di Crotone, che noi della Polizia di Stato dobbiamo essere orgogliosi di come abbiamo affrontato questa straordinaria evenienza, perché abbiamo saputo coniugare e dovremo sempre farlo, l'accoglienza a queste povere donne, bambini, uomini che vengono da realtà tragiche, ma coniugare questa esigenza con l'altra esigenza, quella cioè di perseguire con determinazione quelli che si macchiano di uno dei più odiosi reati, cioè il traffico di esseri umani. Noi della Polizia di Stato ripeto che siamo stati impegnati in prima linea negli sbarchi, nella gestione dei centri e siamo impegnati tuttora in questo, dobbiamo essere veramente lieti dei risultati che abbiamo raggiunto. Il terzo distinguerei è quello del controllo del territorio, a cui io tengo molto perché ritengo che dobbiamo essere vicini alla gente, ma essere vicini alla gente significa anche cercare di intercettare quanto più è possibile le esigenze della collettività e le problematiche che si vivono in quella collettività e naturalmente noi dobbiamo essere parte attiva nel soddisfarle non soltanto in senso prettamente poliziesco, cioè non mi riferisco a quel controllo del territorio tradizionale, prevenzione e repressione, ma io lo intendo con un quid pluris, cioè quello di essere interpreti in un determinato contesto di tutte quante le aspirazioni della collettività, di essere vicini alla collettività anche in settori che potrebbero apparire prima face estranei alla nostra attività. Per cui dico la polizia nella collettività, non vicino alla collettività, ma nella collettività e quindi per fare ciò naturalmente è necessario che noi siamo su strada, è necessario conoscere perché soltanto conoscendo poi possiamo ipotizzare delle soluzioni adeguate al problema. Avellino è pur sempre la città del compianto capo della polizia Antonio Manganelli. Lei lo ha conosciuto, che ricordi ha di Manganelli e che effetto ha provato quando ha barcato la soglia della questura di Avellino? Beh, è stato il mio maestro perché quando io ero giovane funzionario della squadra mobile di Napoli ho avuto modo di lavorare con lui, di collaborare con lui, ma ancora di più quando sono stato capo della squadra mobile di Caserta e il nostro compianto capo era allo scopo e mi ricordo che molte volte mi chiamava per consigliarmi, per orientarmi, per dire stai attento, insomma per guidarmi nell'attività investigativa. E' certo che quando ho barcato la soglia della questura di Avellino il primo pensiero è stato per lui perché è la provincia del capo della polizia che mi ha visto crescere in questa amministrazione e quindi voglio dire una grande riconoscenza, un grande ricordo al nostro Antonio Manganelli. Volevo aggiungere il terzo settore, la prevenzione, volevo precisare che poi si salda con un altro aspetto, cioè quello del malaffare. Malaffare che ritengo non risparmi Avellino e che quindi va affrontato con la stessa determinazione, con la stessa pianificazione, con la stessa programmazione che si registra nell'affrontare i problemi di criminalità organizzata. E questo soprattutto con un auspicio che io ho già avuto modo di dire in sede di incontro con qualche suo collega. Io dico ci vuole l'intervento, l'intervento della magistratura, l'intervento delle forze dell'ordine per estirpare il malaffare, però io lo ritengo con una similitudine pari a un intervento chirurgico. Per estirpare il male è necessario l'intervento chirurgico, ma non si risolve la malattia se all'intervento chirurgico non segue un'adeguata terapia, se non si riesce a trovare la giusta dose di vita salutare, di diete. Quindi ci vogliono dei rimedi duraturi nel tempo perché, e questo è un altro concetto a cui tengo molto, io ritengo che la nostra attività debba essere costante, costante, continua, paziente e non invece essere caratterizzata da eventuali spot di pubblicità, perché rischiamo l'effetto contrario, rischiamo di dare l'impressione di aver sconfitto un determinato fenomeno quando in realtà abbiamo avuto soltanto la capacità di sedarlo. Ritornando all'esempio fatto precedentemente, il male poi cova e poi esplode di nuovo, magari con una dimensione più recrudescente e più pericolosa. Un'ultima domanda signor questore, lei è una persona molto incisiva, molto determinata e operativa, questo le fa onore in una provincia appunto che ha bisogno, come giustamente ha detto lei, di una presenza più costante, di interventi più costanti da parte delle forze dell'ordine. Come pensa allora di improntare la sua nuova missione professionale in Irpinia? E poi ecco, crede molto nella tecnologia, la tecnologia in ausilio della polizia? È un aspetto cruciale, la tecnologia. Io ho insistito nelle sedi dove sono stati, è l'ultima sede a Crotone, per avere per esempio un sistema di videosorveglianza in città efficiente, perché ci consente di raggiungere un duplice scopo, quello di sopperire a carenze di personale che si registrano in tutta Italia, non soltanto in determinate zone, quindi è una carenza generale. Ci danno la possibilità di organizzare meglio i nostri servizi e soprattutto sono un occhio costante sulla città, che ha bisogno sì di polizia, carabinieri, ma noi non possiamo assolutamente militarizzare il territorio e quindi è necessario ricorrere a queste tecnologie per avere un supporto concreto all'attività di prevenzione. Tecnologia che però riverbera i suoi effetti anche sul piano della repressione, perché noi dobbiamo essere al passo con la criminalità, specialmente quella più sofisticata, quella di terzo livello, come la chiamo io, il male a fare dei colletti bianchi e la tecnologia ci deve essere da ausilio anche in questo. Ormai pensi alle indagini patrimoniali, che io ho pure privilegiato nella mia attività. Sì, abbiamo degli strumenti ancora, il catastro, gli accertamenti sul territorio, ma lei immagini che ci sono altri fenomeni che sfuggono alla maggior parte della platea dei soggetti che si occupano di questi fenomeni. Basti pensare all'internet banking, io posso spostare i capitali premendo un bontuncino, oppure a quel fenomeno che è l'Avala, che è il più sconosciuto e che si basa su un rapporto fiduciario che hanno soprattutto i cittadini del Medio Oriente e che riescono attraverso un sistema fiduciario con delle banche a riciclare grossissimi capitali, ma soprattutto a foraggiare quelli che vogliono aderire alle organizzazioni terroristiche. In passato noi siamo trovati di fronte a fenomeni che non era possibile più contrastare con i mezzi tradizionali. Ecco, ho fatto un esempio per sottolineare che non lo sta facendo la Polizia il salto di qualità, ma lo sta facendo grazie alle nuove tecnologie. Ripeto, sia sul piano della prevenzione, i servizi fatti l'altra sera, l'altro giorno a qui, proprio ad Ariano Irpino, dalla collega del commissariato, sono una dimostrazione plastica di questa esigenza. D'altro lato noi ci stiamo attrezzando per contrastare il male a fare anche nella fase repressiva con l'aiuto della tecnologia e non a caso il nostro Dipartimento e anche il nuovo Capo della Polizia punta molto sulla formazione e sull'aggiornamento. Questo perché? Perché si tratta dei due supporti indispensabili per poter utilizzare tutte le tecnologie che ci sono state messe a disposizione e mi creda che negli ultimi tempi il Dipartimento ha fatto sforzi enormi per dotare la Polizia di Stato di strumenti tecnologici avanzati. Buon lavoro signor Questore e in bocca al lupo per questa nuova esperienza in terra irpina. Crepi, grazie.